A mezzanotte va la ronda del piacere L'oscurità Ognuno vuole, vuole godere Abbiamo poco tempo, abbiamo due settimane per montare lo spettacolo e quindi conto su di voi Sai che devo provare uno spettacolo? Sai di che cosa parla? Di che cosa? Parla di una figlia, che sarei io, che deve accudire questa madre anziana che le dà un sacco di problemi Lo sai che Gianna sta passando un momento difficile e io cerco di aiutarla E dai ti prego Lorenzo non insistere, sai come sono combinata con mia madre Da lasciarli stare gli artisti che sono tutti dei morti di fame Non sto dando tutta me stessa a questo personaggio Io dovrei dare di più sul palco, di più Tuo marito i soldi ce li mette? E vai! Ma tu mi trovi bella Bellissima E dopo 40 anni sono ancora qui Alle prese con mia madre e con il teatro